Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. Un'entusiasmante notizia per i fan di Albano e Romina Power, la coppia ha condiviso delle prove che li ritraggono di nuovo insieme, suscitando grande gioia tra i loro sostenitori. Ecco tutte le ultime novità riguardo a questa sorprendente reunion. Nonostante Albano abbia costruito una nuova vita e una famiglia con Loredana Lecciso, il legame tra lui e Romina sembra essersi rafforzato ulteriormente e i due appaiono più uniti che mai. L'emozionante messaggio ha lasciato i fan senza parole, poiché il cantante di Cellino San Marco, insieme a Romina e a tutti i loro figli, ha partecipato a una magnifica serata evento dedicata ai suoi 80 anni, celebrando così una delle voci più iconiche della musica italiana. Albano ha raggiunto l'incredibile traguardo di 80 anni il 20 maggio, celebrando quattro volte 20 come è stato affettuosamente chiamato durante la straordinaria serata all'Arena di Verona, trasmessa su Canale 5. Il concerto ha visto la partecipazione di tutti i suoi figli, nonché della sua storica compagna di lavoro, Romina Power. La carriera di Albano è un viaggio impossibile da sintetizzare, ma tutti ricordano le sue indimenticabili canzoni in coppia con Romina e i molti successi ottenuti nella sua carriera solista. Il nome di Albano è intrinsecamente legato al suo cognome Carrisi e a ciò che rappresenta per Cellino San Marco, il pittoresco borgo pugliese dove ha radicato le sue radici e ha costruito la sua vita insieme alla sua famiglia. La personalità di Albano e la sua eterna giovinezza si riflettono nel suo inconfondibile look, indossando sempre jeans, giacca e il suo cappello caratteristico. La storia di Albano è strettamente intrecciata con quella della moglie Romina Power, con la quale ha costruito una famiglia e una carriera in coppia che ha superato confini e conquistato cuori in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante un matrimonio e quattro figli, Albano e Romina hanno affrontato difficoltà nel portare avanti la famiglia che rappresentava un esempio di unione e bellezza. La tragica scomparsa della loro figlia Ilenia a New Orleans nel gennaio del 1994 ha causato dolore e una profonda frattura nella coppia. Nonostante il passare degli anni, Romina non smette di cercare la figlia, come dimostra un recente post commovente su Instagram dedicato a Ilenia, mentre Albano mantiene la convinzione che la primogenita sia ancora viva. Dopo la separazione nel 1999, Albano e Romina si sono presi strade diverse, e la notizia ha lasciato milioni di fan con l'amaro in bocca. Albano ha intrapreso una relazione con Loredana Lecciso, dalla quale sono nati Jasmin e Bido, ora ventenni. Nonostante le difficoltà, i sei figli di Albano sembrano essere uniti, come è stato evidente dalle recenti immagini della festa all'Arena di Verona. Dopo una fase di tensioni e distanza, nel 2013 la storica coppia ha sorpreso i fan con una reunion in occasione di tre concerti organizzati in Russia, tornando così insieme sul palco dopo 16 anni dall'ultimo spettacolo condiviso. Da allora, Albano ha bilanciato la sua vita privata con la compagna Loredana Lecciso e i figli, con la sua carriera artistica che ha visto la partecipazione di Vomina Cowell. I fan sono rimasti affascinati non solo dalla presenza di Romina sul palco dell'Arena di Verona, ma anche dall'assenza di Loredana Lecciso. Nonostante ciò, Loredana condivide regolarmente foto e video con Albano dalla loro residenza a Cellino sui suoi canali social ufficiali. Una nuova avventura attende Albano e Romina, vi aspettiamo in Australia, ha annunciato Vomina Cowell sul suo profilo Instagram ufficiale. La coppia intraprenderà un tour in Australia nel mese di ottobre 2023, portando la loro musica e la loro storia d'amore oltre i confini nazionali. L'annuncio ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che hanno espresso il desiderio di vederli esibirsi anche in Nuova Zelanda. Il tour australiano toccherà le città di Sydney, Melbourne e Adelaide, regalando momenti indimenticabili ai loro sostenitori di tutto il mondo. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.